Le diete funzionano davvero? Ciao, sono Luca Dallavalle, Health Performance Coach e dal 2004 studio ed elaboro strategie altamente personalizzate perché ogni persona possa sentirsi forte e vitale ad ogni età. Oggi voglio parlarti delle diete e in particolare capire assieme perché non funzionano. Il mercato delle diete è in continuo aumento e viene proposto quasi ovunque come una soluzione semplice ed efficace. Quando infatti hai come obiettivo quello di dimagrire, il primo pensiero è quello di metterti a dieta. E sulle diete sono stati scritti diversi libri, alcuni dei quali anche con opinioni completamente discordanti. E se pensi che ogni anno sulle riviste più in voga trovi la dieta del momento per smaltire i chili di troppo dopo le feste oppure per prepararti meglio alla prova costume, già puoi intuire che di base qualcosa non funziona. E infatti le statistiche affermano che oltre il 90% delle persone che iniziano una dieta a distanza di circa 10-12 mesi sono più grassi di prima. Ma allora, perché cerchiamo così tanto le diete? Dalla mia esperienza con migliaia di persone posso dirti quasi con certezza che il motivo principale è perché le diete promettono il risultato desiderato con un sacrificio davvero minimo. Cioè, nell'immaginario comune bastano due mesi di dieta per sistemare magari anni di eccessi e sregolatezza. E questo è il primo grande errore, perché non puoi pensare che bastino due mesi per risolvere tutti i tuoi problemi che magari ti trascini dietro da anni. Il percorso da fare è ben più lungo e complesso se davvero vuoi ottenere risultati duraturi nel tempo. Un altro errore è quello di seguire regimi alimentari privativi o limitativi. Cioè, escludere per un periodo determinati alimenti della tua dieta non è, diciamo, a priori una scelta azzeccata. La dieta, in quanto tale, andrebbe prescritta da un professionista sulla base delle proprie esigenze quotidiane. E non dovrebbe essere, diciamo, impostata solamente in ottica di risultato, ma avere, quello che viene detto, un principio di tipo educativo. Ma la dieta da sola non basta. Infatti, un altro errore tipico è quello di mettersi solamente a dieta. Per raggiungere e mantenere un determinato risultato, serve seguire quello che è uno stile di vita corretto, che comprenda quindi un'alimentazione bilanciata, la giusta dose di attività fisica, ma anche una gestione emotiva in equilibrio. E per ultimo, ma non per questo meno importante, serve un approccio che sia davvero personalizzato. Cioè, non puoi pensare di metterti a dieta seguendo la dieta dell'amico di turno, oppure la dieta della rivista più in voga. Personalizzare l'approccio è indispensabile per, diciamo, ottenere risultati in completa sicurezza, soprattutto per quanto riguarda la tua salute. Quindi, per concludere, se hai delle patologie o delle necessità particolari per cui hai davvero bisogno di una dieta, vai a farti seguire in un rapporto uno a uno da quelle che sono le figure specializzate, quindi medici, dietisti oppure nutrizionisti. Se invece quello che ti serve è cambiare il tuo stile di vita, fatti seguire in un percorso sempre personalizzato per il miglioramento graduale e sostenibile delle tue abitudini. Perché ricorda, essere attivi e vitali è una questione di scelte.